ciao a tutti oggi l'argomento che ho discusso durante una diretta sul gruppo passione becco piatto è stato il fucile il fucile che io utilizzo durante le mie sessioni di caccia alle anatre ne uso generalmente tre diversi oggi ne ho presentato uno che è il brownie gold hunter cui supermanium e nel presentare questo fucile che oltretutto non è neanche uno degli ultimi arrivati ma è qualcosa di un po più diciamo trattato ho introdotto un discorso cartucce cartucce supermanium cartucce supermanium che io utilizzo quando sono quando sono in appostamento sia fisso che temporaneo allora il discorso cartuccia come dicevo l'altro giorno che le ho introdotte è una cosa molto personale ognuno di noi ha le sue le sue convinzioni le sue credenze io non voglio vendere niente e non voglio che nessuno cambi idea tutti possono condividere la mia opinione altri possono opinarla non è un problema io in base alla mia esperienza vi racconto come come la vivo io e vi racconto come provo io i materiali le cartucce poi ognuno di voi ha la facoltà di dirmi stessa sbagliando oppure stai guarda che io ho visto in maniera in maniera diversa oppure ancora stai hai ragione mi sono trovato anch'io nelle stesse condizioni questo è tutto da vedere comunque tornato al discorso cartuccia oggi prendiamo in esame una cartuccia che secondo me è una delle cartucce più belle che c'erano sul mercato c'erano perché perché non l'ho saputo che questa cartuccia non la fanno più e stiamo parlando della baschieri e pellagri extra magnum da 63 grammi una cartuccia bellissima adesso ve la farò vedere che purtroppo anche catalogo non guardandolo prima sul diciamo la pagina non le ho trovate può darsi che gli abbiano cambiato comunque il nome alla cartuccia o che abbiano addirittura cambiato la cartuccia perché effettivamente come calibro il 1279 nel nostro territorio eccezione fatta per alcune zone dove è richiesta una determinata e discreta potenza nel di fuoco e per via delle distanze e della comunque dalla stazza del del nostro selvatico che si caccia che in questo caso sono le anatre di grossa dimensione o anche addirittura le oche non la usa quasi nessuno quindi diciamo che è molto di nicchia adesso vedo di girare la telecamera e di farvela vedere no non si può girare la telecamera però posso fare così ecco vediamo se si vede eccola qua allora praticamente questa cartuccia oltretutto anche bellina perché si presenta in questa maniera e in questa scatola come potete vederla è una cartuccia che secondo me è elegantissima elegante anche alla scatola è di cartoncino con fondo color olio e ha delle righe degli inserti rigature e bande olive olive drab che è questo qua il colore nero un po il verde militare allora di caratteristica la cartuccia quando la prendi in mano è il famoso bossolo tipo gordon per cui la gordon system per cui la la baschiera è stata famosa qualche anno addietro anche qualcuno di più di qualche anno addietro niente è una cartuccia che di color olive drab con delle scritte oro la cui scatola poi è molto e molto curata sia all'interno che all'esterno vi portano le diciture su cui si deve fare si deve fare affidamento per poterle utilizzare adesso prendola qua c'è il praticamente e qua si legge ok usate ma il telefono un po un casino si legge il l'indirizzo del costruttore con riferimento internet ci sono altre numerologie e poi la confezione da dieci cartucce tutto quello che ci serve sapere di questa cartuccia lo possiamo già leggere sulla scatola perché è riportato sia con una banda qua che con una banda qui esatto sul fianco poi oltretutto sul fondo della scatola sono leggibili le prescrizioni di sicurezza tra cui sono bene evidenti quelle relative l'impiego di queste cariche solo in fucili dotate di camera giusta e che abbiano superato la prova di 1370 bar allora questa qua è una cartuccia praticamente questo è un piombo 4 ma esiste esisteva almeno in piombo partendo da 6 6 5 4 3 2 1 e 0 che io comprai in uno stock di 100 quindi 10 scatole da 10 e che ad oggi me ne rimangono circa 40 le comprai a fine della stagione 2017 2018 quindi siamo parlando di febbraio e mi capitò l'occasione e praticamente la portai la portai a casa con un buono sconto è una scatola di cartucce che mediamente andava tra le 13 e le 16 euro scatola quindi neanche neanche tanto neanche attucare per essere una cartuccia che la si utilizza per tirare poco in aria ma la si utilizza per tirare tanto in acqua e almeno come primo tiro io l'ho sempre usata così questa cartuccia qua ha una peculiarità aveva la peculiarità di essere caricata con con la polvere m 410 barra 3 che è la carica che ancora oggi se non sbaglio la baschieri pellagro utilizza per caricare extra magnum da 56 grammi che ha in che ha in catalogo l'alternativa se non posso se non mi ricordo male poteva essere la m 92 s che era un'altra diciamo polvere che veniva utilizzata per caricare le baby magnum le semi magnum e i 40 grammi vari che comunque non era male neanche lei come polvere io provai con la polvere su altre cartucce della baschieri mi ci sono trovato veramente bene guarda stiamo parlando comunque di una cartuccia che è caricata con polvere molto progressiva ha un inesco doppia forza dentro ha una bella borra con territorio ammortizzante e pallini nichelati il bossolo il famoso bossolo gordon system ma come prerogativa dimostrare come si può vedere qua una corona circolare di materiale cintico con cui il bossolo viene formato c'è lo stesso materiale che abbiamo qua nel bossolo lo abbiamo qui dentro nel fondello infatti il colore è uguale siamo sicuri che una baschieri nel momento in cui su questa corona circolare c'è impresso comunque il marchio della casa che ha baschieri pellagli e calibro che è quello 12 il fondello tonato con il suo ebay 18 mm l'ho migliorato prima col calibro 18 mm di altezza calza bene su questo bossolo e la chiude conferendolo una giusta resistenza allo sforzo perché lo si sente che è proprio bello come bossolo non è un non li ho mai visti una volta che li ho sparati rotti o venuti fuori male non è mai successo il tubo un maltato si può sentire delle rigature sono delle striature verticali che facilitano lo scollamento dalla camera e quindi l'estrazione perché tante volte sia fuori a caccia il fucile pulito si fa qualche tiro si sporca comincia ad impattaccarsi un po di roba attorno alla camera di scopio che è la zona dove in teoria si sporca un po di più magari la cartuccia cade per terra la si mette dentro magari con qualche residuo di fango qualcosa insomma non stiamo attenti a queste a queste operazioni può capitare che si che si incoi comunque si attacchi faccia fatica nell'estrarre in realtà non è successo neanche quello una volta che sono stati sparati i bossoli sono usciti in maniera abbastanza fluente anche perché la carica che ti danno nonostante sia molto progressiva la senti sulla spalla ecco il bello di sparare in fucili come il brownie che vi dicevo che il giorno dopo non la senti sulla spalla se utilizzi fucili un attimino un po più un po più leggeri io parlo sempre di fucili attorno ai 3 kg rischi il giorno dopo di di avere dei fastidi io sparando con il brownie che si attesto sui 4 kg questo problema non ce l'ho anche sulla cartuccia viene riportata la dicitura max eccola qui max 1050 bar per tenere sempre comunque il cacciatore attento sul fatto che questa è una cartuccia che va caricata in un fucile che che sia un supermanium perché le pressioni che sviluppa non sono leggere ecco l'unica cosa che può dare fastidio di queste cartucce fatto che il bossolo sia verde verdone verdone militare e sia un po difficoltoso raccoglierlo quando poi lo andiamo raccogliere per terra quando l'automatico lo espelle però tutto tassativamente non gli si può trovare di difetti enormi è una cartuccia che io ho utilizzato tantissimo come prima volta come dicevo prima l'ha utilizzato l'ho utilizzata sulle anatre maggiori sono il germano il codone il fischione mi è capitato due tre volte di cacciare in un posto dove ci fossero anche le morette le usate bene sono morte non è proprio un'altra maggiore ma rispetto a un germano risulta un po più piccola però li ho viste belle belle decise come cartucce ecco e forse una volta sola mi è capitata mi è capitata una una canapiglia con una di queste cartucce qua ma ho visto che rende bene comunque su tutto questo qua è un piombo 4 questo qua che vi ho fatto vedere in realtà c'è un mio carissimo amico un compagno di caccia che utilizza anche palino un po più grossi soprattutto sulle ocche perché lui va tantissimo all'estero caccia di ocche e si è trovato discretamente bene con questo tipo di di cartuccia sperando di aver fatto una cosa buona recensirla in modo veloce così vi saluto per oggi niente domani se riesco girano un altro un altro video recensione sulle cartucce della winchester che avete visto magari durante durante questo questo video che c'è qua sul banco sono le le super double x sono cartucce che dette della serie prestige che comunque restano sempre dentro nel range di questa qua che vi ho fatto vedere nel 1289 da 63 grammi la polvere leggermente diversa i tempi di canna sono un po più veloci la velocità delle winchester comunque va sempre decisamente un po più è un po più alta rispetto a quella delle baschieri comunque delle cartucce italiane non penso che non penso che perché non ho fatto la prova al banco ma penso che comunque le winchester differenza delle baschieri si attestino su 400 metri al secondo o anche qualcosina di più forse 405 406 metri devo trovare bene bene delle recensioni che purtroppo sui siti italiani non si trovano in realtà delle baschieri invece si hanno tempi sia un ben chiaro più o meno qual è la registrazione le velocità che hanno e sono cartucce tra virgolo chiamiamole tra virgolette a lente perché stanno sui 3 dei 3 80 3 90 metri al secondo quindi non sono velocissime ma però comunque considerando che sono cariche pesantissime fanno il loro dovere spaccano veramente bene niente vi saluto e ci vediamo prossimamente